Nome. Danilo Restivo. Numero vittime. Due accertate. Modus operandi. Armi bianche, stupro. Danilo Restivo nasce il 3 aprile 1972 in Sicilia. È un ragazzo problematico, ossessivo e perverso. È noto per l'abitudine di importunare le ragazze delle quali si invaghisce e alle quali spesso fa telefonate mute seguite dalla colonna sonora del film Profondo Rosso. Un'altra abitudine decisamente insolita di Restivo è quella di tagliare di nascosto ciò che di capelli ha giovani donne con un paio di forbici che porta sempre con sé. Un feticismo che si trasformerà in follia omicida a partire dal 1993. La mattina del 12 settembre 1993, Elisa Claps, 16 anni, studentessa al terzo anno del liceo classico di Potenza, esce di casa per recarsi a una funzione religiosa nella vicina chiesa insieme ad un'amica, promettendo al fratello maggiore di rientrare entro le 13. L'allarme scattò la sera, quando la famiglia non la vide più tornare. Secondo le testimonianze, la giovane aveva in realtà concordato con l'amica in questione di recarsi presso la chiesa della Santissima Trinità, sita nel centro di Potenza, per incontrare un amico che doveva consegnarle un regalo per festeggiare la promozione agli esami di riparazione. Fu scoperto in seguito, che la persona incontrata da Elisa è Danilo Restivo, che risulterà anche essere l'ultimo ad aver visto la ragazza. Il giovane viene sospettato dagli inquirenti di avere un ruolo importante nella scomparsa della ragazza per l'incapacità di ricostruire i suoi spostamenti dopo l'incontro. Infatti alcune ore dopo la sparizione di Elisa, Restivo si presenta con gli abiti insanguinati a pronto soccorso dell'ospedale cittadino per farsi medicare un taglio alla mano, raccontando ai medici d'essersi fatto male in seguito ad una caduta. La ferita, tuttavia, sembra essere provocata da una lama. I vestiti che il giovane indossava quella domenica appaiono vistosamente insanguinati, ma non vengono sequestrati immediatamente, e lo stesso si rende irreperibile per i due giorni successivi con la scusa di dover sostenere un esame universitario a Napoli. Alcune amiche di Elisa dichiararono che Restivo aveva tentato di corteggiarla senza successo e che era abitudine del giovane cercare di ottenere appuntamenti dalle ragazze da cui era attratto con la scusa di offrire piccoli doni, diventando poi aggressivo e violento quando le ragazze che gli interessavano rifiutavano i suoi approcci. Il quadro psicologico del sospettato era dunque chiaro alle autorità. Avevano a che fare con un maniaco fortemente depravato. Quando apprende che la giovane aveva avuto un appuntamento con Restivo, la madre di Elisa, focalizza la sua attenzione contro il ragazzo, dichiarando che, con ogni probabilità, Danilo ha ucciso Elisa e ne ha occultato il corpo. La donna perciò chiede ripetutamente agli inquirenti di indagare a fondo su Restivo, ma senza esito, fino a quando, quasi 17 anni dopo, i resti della giovane vengono ritrovati nel sottotetto della chiesa dove Elisa si era incontrata con Restivo e dentro la quale i familiari di Elisa avevano chiesto fin dall'inizio d'effettuare una curata perquisizione. Del caso, anche negli anni in cui gli inquirenti non facevano progressi, si è più volte occupata la trasmissione RAI, chi l'ha visto? Finalmente, dopo ben 17 anni, il 17 marzo 2010, i resti di Elisa Claps vengono ritrovati occultati in fondo al sottotetto della chiesa potentina della Santissima Trinità, grazie ad alcuni operai durante dei lavori. Oltre ai resti umani, vengono trovati anche un orologio, gli occhiali, gli orecchini, i sandali e quel che resta dei vestiti della giovane. Il reggiseno appare tagliato ed i jeans sono aperti, suggerendo che la ragazza abbia subito un'aggressione a sfondo sessuale prima di essere uccisa. Ipotesi confermata dopo che la scientifica ha trovato tracce di sperma sul materasso a fianco al cadavere di Elisa. L'autopsia, inoltre, confermò la causa di morte. Era stata colpita ripetutamente con delle forbici di medie dimensioni, e con una lama. Le indagini andavano a rilento, in quanto subentrò l'ipotesi cospiratrice, ovvero che la chiesa centrasse qualcosa e che qualcuno avesse tenuto nascosto il fatto. Ma finalmente dal 2011, dopo che intervenne anche il RIS di Parma, trovarono delle impronte digitali, le quali risultarono appartenere a Danilo Restivo. In una puntata del 9 marzo 2011, il programma di Chi l'ha visto, rilevò anche che il sangue sulla maglietta del maniaco, che mentendo aveva detto che era caduto, risultò appartenere alla vittima. Intanto, da Londra arrivò l'allarme della presenza di un potenziale serial killer italiano, sospettato per diversi omicidi. Quell'uomo era proprio lui, Danilo Restivo, ed era appena stato arrestato per l'omicidio Heather Barnett, avvenuto il 12 novembre 2002 a Sharmister. La vittima era stata violentata e ferocemente colpita con oggetti contondenti, le erano state tagliate ciocche di capelli, e il suo cadavere occultato. Il processo iniziò il 30 giugno 2011. Il giudice gli disse che non sarebbe più uscito di prigione poiché era recidivo, un assassino freddo, depravato e calcolatore. È stato condannato all'ergastolo per questo omicidio. Poco dopo, fu fatto tornare in Italia per affrontare il processo dell'8 novembre 2011, per l'omicidio di Elisa Claps. Si concluse con una condanna a 30 anni ed un risarcimento di 700 mila euro alla famiglia Claps. Il 2 luglio 2011 viene ufficiato il funerale di Elisa. Per la giornata viene proclamato il lutto cittadino. Finalmente la famiglia aveva una tomba su cui piangere e pregare per la loro figlia. Il 24 aprile 2013 fu emanata l'ultima sentenza, secondo la quale Danilo Restivo doveva tornare in Inghilterra a scontare l'ergastolo. Le indagini non sono ancora chiuse. Il maniaco potrebbe essere responsabile di molti più omicidi.